benvenuta chiara grazie della tua presenza ciao grazie allora puoi velocemente ma in modo molto sintetico introdurre la tua esperienza le tue competenze sì certo allora io diciamo il core della mia esperienza sono cinque spedizioni in antartide in cui sono stata capo spedizione nelle missioni internazionali è un'esperienza che ho fatto nell'arco di 15 anni quindi 15 anni sono stata comunque legata alle spedizioni in antartide ho iniziato giovanissima subito dopo la tesi di laurea e queste esperienze mi hanno dato come una una visione diversa del mondo soprattutto un'esposizione all'imprevisto in maniera permanente questo è un po' diciamo la sintesi se dovessi sintetizzare in una parola e due parole l'esperienza antartica è questo proprio un allenamento ad avere a che fare con l'incertezza ad avere a che fare con con l'imprevisto perché le basi in antartide sono veramente un concentrato di mondo sono imprese collettive quindi ora condivido questa mia esperienza con con le aziende con con le persone che sono interessate a capire come un essere umano si confronta con l'incertezza o meglio si può articolare con l'incertezza super interessante perché le situazioni estreme fanno emergere delle cose che normalmente magari non si vedono così facilmente ok partiamo sono delle esperienze accelerate l'estremo è proprio un'esperienza accelerata nello spazio tempo concentrata nello spazio accelerata nel tempo per cui puoi vedere delle dinamiche che normalmente ci sfuggono nella nostra vita chiarissimo partiamo allora prima domanda è sempre la stessa per tutti in questo format ed è questa qual è il filo rosso la domanda di fondo che sin da quando eri ragazza guida la tua ricerca professionale e prima ancora personale credo che la domanda sia ci può essere qualcos'altro ci può essere un altro modo di vedere le cose ci può essere un altro mondo ci può essere un altro modo di vivere ci può essere quindi ci può essere qualcos'altro non l'altro l'altrove quindi è una domanda che mi spinge molto all'esplorazione infatti per me l'esplorazione è molto importante la cosa che è più fondamentale ok molto interessante quindi uno slancio di non accontentarsi di quello che c'è è uno slancio sia evolutivo immagino ma sia anche in qualche modo potremmo dire trascendente nel senso non di metafisico nel senso di trascendere l'ordine e le logiche attuali insomma sì sì è assolutamente uno sguardo sull'oltre cioè oltre l'apparenza cosa c'è cioè oltre quello che io vedo cosa c'è e quindi è sì trascendere il il qui e ora ma nel senso di esplorare il qui e ora per vedere se c'è un altro modo per percepirlo per guardarlo per comprendere quindi è chiaro una forte spinta verso la conoscenza ma una spinta legata alla curiosità non al nozionismo quindi molto legata all'esperienza esplorativa delle cose delle persone del mondo del di tutto quello che ci circonda quindi sì è una spinta evolutiva verso la crescita ma ancora poi se no queste parole sono sempre abusate no quindi è proprio un viaggio ecco è proprio un viaggio quello più 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 profondo o molteplice perché non è detto che tu vai un viaggio sempre in profondità puoi fare un viaggio anche in orizzontale no in esplorare più la molteplicità quindi ecco è proprio il viaggio nell'esplorazione ok allora la seconda domanda è questa ci puoi descrivere il rapporto tra il pensiero della complessità e le skills le esperienze più importanti che hai maturato nelle spedizioni antartiche beh sì c'è un fortissimo legame tra la complessità e il navigare l'incertezza che poi il tema dell'antartide perché io sono arrivata come dicevo come accennavo prima sono arrivata in antartide molto giovane subito dopo la tesi di laurea e io ho fatto una laurea in ingegneria ho fatto un percorso in ingegneria civile quindi avevo un approccio molto pragmatico molto organizzato molto strutturato insomma ero stata molto addestrata sulla previsione l'organizzazione insomma tutti i meccanismi dovevano quindi avevo una visione anche molto meccanica delle cose meccanicistica insomma come approccio e quando arrivo in antartide grande shock perché in antartide l'antartide è natura lo stato puro per cui tutto in qualche modo non è che è crollato ma in qualche modo non tornava c'era questo grande sforzo alla progettazione alla programmazione e questo impatto con l'incertezza più assoluta le spedizioni in antartide sono sono delle vere imprese collettive quindi per esempio nella base più estrema dove sono stata che la base concordia che si trova a 4 mila metri di altitudine sono 4 mila metri di stratificazione di ghiaccio perché siamo proprio in cima alla calotta polare siamo a 1200 chilometri dalla costa quindi all'interno del continente completamente isolati ci dobbiamo produrre l'elettricità l'acqua insomma è un ambiente in cui la base è completamente autonoma come una navicella spaziale nello spazio e le temperature sono tra i meno 50 gradi in estate meno tante l'inverno quindi sono assolutamente il luogo più freddo estremo del pianeta i progetti da realizzare sono moltissimi perché ci sono circa una 80 70 persone dipende un po' dalla stagione metà team è fatto di tecnici che si occupano del funzionamento della base l'altra metà ha fatto di ricercatori che arrivano da diverse discipline oltre che da varie parti del mondo e ci sono progetti di astrofisica di glaciologia naturalmente il ghiaccio viene estratto il ghiaccio sotto la base concordia risale per esempio 800 mila anni fa quindi questo significa ci sono ci sono 800 mila anni di andamento climatico di informazione registrate là e quindi ecco ci sono tanti progetti da portare da portare a termine uno spazio molto breve perché lo spazio sono i tre mesi della spedizione in l'antartide dell'espedizione estiva quindi da novembre fino a fine gennaio perché poi in inverno la base rimane aperta ma sono per lo più attività di manutenzione di osservato di insomma di piccole piccole osservazioni si fanno insomma principalmente le attività si fanno in estate e io appunto sono arrivata lì come ingegnere subito dopo la laurea ho cominciato a lavorare per l'organizzazione allora italiana che si occupava delle spedizioni in antartide e mi occupavo di fare le interfacce cioè mi occupavo del del tradurre diciamo in termini tecnici tutti quelle che erano le esigenze dei vari ricercatori alla logistica e quindi ho fatto una gavetta abbastanza ampia no in queste tra i vari scienziati le varie attività che si facevano e i vari impedimenti così li vedevo che erano in qualche modo i vari ostacoli che erano proposti dall'antartide perché appunto i materiali non erano testati per vivere in quelle temperature per lavorare per operare in quelle temperature lo stress fisico è molto elevato a volte capita l'imprevisto per cui ti scordi un pezzo diventa un problema perché devi comunque realizzare il progetto non è che te lo puoi far mandare è molto raro che tu riesca a fartelo mandare in tempo utile in più ci sono tutta una serie di imprevisti legati proprio all'antartide all'ambiente estrema quindi il mezzo che si rompe perché la temperatura è troppo estrema passiamo su un crepaccio e succede un problema ci sono crescere insomma succedono anche delle cose o arriva il cattivo tempo all'improvviso non te lo aspettavi nonostante le previsioni quindi è un ambiente altamente imprevedibile e come ingegnere questo è stato uno shock no quindi la prima cosa che mi sono detta poi sono diventata anche capo spedizione ancora più complicata la cosa no perché il capo spedizione come il capo della nave che deve portare a casa tutti questi progetti in un ambiente estremo altamente cangiante e con un team molto variegato perché poi a quel punto si è si è unito anche l'elemento umano no quindi quanto imprevedibile anche l'elemento umano anche se siamo addestrati insomma tutto quello che vuoi motivati tutto quello che vuoi ma si creano comunque situazioni conflittuali situazioni problematiche o situazioni anche di ordinaria gestione che comunque non sono così ovvie no quando le discipline sono diverse elementi devono essere integrate magari non vedono le cose nello stesso modo quindi questo problema mi ha portato a esplorare tutte le tecniche del management quindi perché la prima cosa che mi sono detta ok il problema sono io sono un ingegnere civile non capisco nulla di management quindi il tema non è che io non c'è il tema del io non so gestire una spedizione in antartide è legato al fatto che io non conosco le tecniche di management quindi c'è stato un approfondimento delle tecniche ingegneristiche dalla quale sono riemersa con un master al Politecnico di Milano insomma due anni di assegna di ricerca eccetera dalla quale sono riemersa con grandissimi strumenti quindi avevo tanti più strumenti di prima da poter utilizzare in campo che però non erano sufficienti no mi mancava qualcosa e lì sono entrata poi questa ricerca di trovare questo qualcosa che non sapevo che cosa sono approdata le scienze della complessità perché le scienze della complessità ha fatto questo lungo preambolo perché altrimenti non è chiaro il contesto esatto perché l'antartide propone in maniera concentrata e appunto nel tempo e nello spazio perché siamo tutti lì noi operiamo nel raggio di due chilometri dalla base perché con meno 50 non è che vai tanto lontano anche se poi abbiamo connessioni con le basi eccetera e concentrata nel tempo perché appunto queste cose ti alzi la mattina pensi di fare un'attività arriva la tempesta invece devi cambiare la tua la tua pianificazione e il tuo il tuo dover gestire quindi è come l'impressione che avevo da ingegnere era che io dovevo gestire l'emergenza in continuazione no e ancora la domanda quella iniziale non è possibile ci deve essere un altro modo non è possibile andare avanti così non può essere ci deve essere un altro modo di vedere o di operare questa situazione quindi sono arrivati il mio soccorso le scienze della complessità perché lì è evidente che nella situazione estrema si rivela la complessità la complessità del mondo no per cui se tu nella tua testa non sei capace di concepire la complessità fai fatica a navigarla no poi la complessità è chiaro non si non si gestisce come l'emergenza non si gestisce perché stai in emergenza o stai gestendo qualcosa ma si può navigare no quindi la complessità assolutamente si può navigare certo devi essere capace tu di concepire la complessità e poi di metterti in qualche modo in dialogo con con questa questo è l'unico modo che secondo mio avviso sia di essere a proprio agio nelle situazioni estreme come quelle di gestire una spedizione in antartide perché altrimenti si soffre continuamente per il fallimento dei nostri piani per il fallimento delle nostre aspettative eccetera altrimenti c'è una dimensione di grande sofferenza mentre la complessità ti regala una dimensione di gioia e di efficacia se dovessi sintetizzare le principali le due tre principali skills e euristiche cioè logiche forma mentis che aiutano a a me piace dire flow with complexity cioè fluire con la complessità come tu dici navigare no quali sono le principali secondo te se dovessi proprio dire come dire ci sono tanti modi per dire c'è anche la meditazione insomma non è che la complessità è l'unico modo per carità però la complessità è un modo molto utile per la nostra mentalità di uomini occidentali cresciuti con la scienza e cresciuti con il principio di contraddizione di non contraddizione no la complessità ti permette di aprire la mente e quindi la skill è sicuramente la possibilità di diventare fluida nel modo di ragionare questo è la una delle principali dopodiché ci deve essere anche il cuore perché chiaramente questo dal punto di vista la complessità ti aiuta dal punto di vista mentale molto dopodiché altre skill sono quelle legate al cuore no quindi all'apertura del cuore la complessità ti permette in qualche modo di sganciarti dalla mente dalla razionalità per essere per fluire con con le emozioni dopodiché anche le emozioni fanno gestisce fanno bisogna fluire non è che bisogna attaccarsi alle emozioni no quindi l'altra grande skill secondo me è la compassione intesa proprio come patisco con no patisco patos con no quindi sento la passione dell'altro quindi l'apertura all'altro l'apertura a perché chiaramente sono sono imprese collettive quindi siamo sempre un team quindi bisogna riuscire a entrare in connessione con gli altri quindi questa è una grande una grande impresa e in connessione con l'antartide che che anche questa è un'impresa estrema nei termini della complessità in dialogica si direbbe insomma entrare in dialogica con con il mondo quindi insomma c'è anche una componente mindfulness potremmo dire quando io preferisco parlare di meditazione che di mindfulness perché insomma purtroppo oggi le parole vengono prese abusate semplificate no come si semplifica la complessità si semplifica la meditazione si semplifica tutto no e però sì assolutamente io credo che che sia una tecnica le tecniche di meditazione qualunque se siano siano fondamentali per per supportarci nella nostra esplorazione e dialogo con il mondo l'eccellenza non può prescindere da una costante evoluzione anche interna dei propri meccanismi le proprie credenze di uscire la propria comfort zone in dimensione di continua curiosità è così è così questo è il mio percorso sicuramente tanti campi ed è molto bello che tu l'hai come dire confermato in quel campo così particolare prezioso ed estremo che hai vissuto la domanda successiva è questa rimaniamo sempre nell'ambito del pensiero della complessità a tuo parere quali fattori hanno rallentato la diffusione e incarnazione del pensiero complesso per dare un accenno a chi ci ascolterà vedrà autori come edgar moren mauro ceruti gianluca bocchi in italia quali fattori hanno rallentato la diffusione e incarnazione del pensiero complesso tanto nell'ambito teoretico che applicativo sul fronte di chi doveva assimilarlo ovviamente ma anche di chi e come lo ha promulgato e decenni passati perché quasi 40 anni no che questo tema che adesso è diventato mainstream cerca di diffondersi fuori dal mondo puramente scientifico ma allora rispetto parto al contrario diciamo rispetto a chi lo ha promulgato non ho niente cioè sono proprio amici maestri soprattutto edgar moren gianluca bocchi e mauro ceruti insomma sono veramente io quando li ho incontrati io dico sempre che la complessità mi ha salvato la vita perché ero proprio in un rapporto non proprio amorevole con il mondo perché non mi tornava cioè io da sempre non mi tornava poi l'esperienza dell'antartida è stata in qualche modo l'estremo la conferma ma da sempre c'era qualcosa che non tornava in cui venivano raccontate le cose quindi quando ho incontrato loro ho fatto ah finalmente il tema è che quindi dal loro punto di vista non credo che abbiano fatto degli come dire degli errori o di qualcosa per rallentare il processo di ascolto no sicuramente come tutti i pionieri in qualche modo è normale che ci sia ci sia un certo ci va da un certo tempo affinché quando uno ha una visione poi gli altri possano comprenderla quindi diciamo un po come gli artisti insomma quando sono un po troppo avanti rispetto ai tempi ci vuole un po quello che ha rallentato nel mondo è semplicemente che la previsione funzionava in un mondo stabile la previsione funzionava in un certo dominio la previsione funziona quindi finché noi ci siamo in qualche modo seduti su un mondo fatto di abitudini e di cose che si ripetono più o meno sempre uguali e non me le voglia chi teme l'incertezza ma io ho una relazione d'amore con l'incertezza quindi per dire negli anni 90 io ero abbastanza scomoda veramente ero ragazzina ma ero proprio scomoda non mi tornava no perché c'era qualcosa che che non non in qualche modo l'abitudine ha come o la routine ha come conseguenza che spegne la sua vitalità quindi io sentivo più lo spegnimento della vitalità che il comfort provocato dal fatto che comunque ci si può contare che domani si fanno le stesse cose eccetera no quindi questo dipende un po dalle nostre sensibilità prevaleva il desiderio di sicurezza rispetto all'espansione la creatività esatto cioè per me prevaleva l'espansione la creatività mentre qualcun altro può prevalere il bisogno di sicurezza diciamo che la sicurezza non c'ha niente di male è semplicemente che comunque riduce la nostra avvitabilità la vitalità ci vuole un equilibrio sennò prevale la paura esattamente esatto il posto prevale esattamente esattamente quindi ecco quindi credo che semplicemente oggi è venuta diciamo come aveva anticipato edgar moren siamo all'interno di un'era planetaria quindi il mondo globalizzando si ci fa vedere che siamo all'interno di un'era planetaria siamo ad un passaggio di scala ma il tema è che non lo so magari le future generazioni rischiano lo stesso stallo no perché nel momento in cui ti abitui che l'era è planetaria che le cose funzionano in un certo modo poi ripiombi nell'abitudine quindi quello che è interessante quello che noi stiamo vivendo è un momento veramente interessante sono tempi estremamente interessanti perché siamo nel momento di passaggio solo nel momento di passaggio hai l'opportunità di scoprire come funziona la tua vita 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 e come riesco a dirlo oggi vitalità e come puoi in qualche modo scivolare nelle abitudine come l'abitudine può diventare da una parte utile ma dall'altra deleteria perché ti ti in qualche modo schematizzano ti blocca in comportamenti abitudinari rutinari eccetera insomma quindi ecco quindi sì credo che oggi sia semplicemente il momento ottimale no propizio per risvegliare la nostra vitalità creatività voglia di costruire il futuro anche siamo l'antica grecia direbbero siamo nel kairos cioè siamo nel momento propizio che devi cogliere è interessante se io è una delle caratteristiche del mio filo rosso è proprio quello di essere ipersensibile e interessato a quello che potremmo chiamare anche una specie di salto antropologico e poi avrò le mie distorsioni e le mie bias e quindi tendo a vedere questa cosa ovunque però sempre più esperti in settori maggiori arrivano alla conclusione che sì è vero il mondo in continua evoluzione anche cento anni fa anche 200 anni fa ma adesso c'è proprio una soglia di salto molto difficile per effetti enormi della popolazione ovviamente però è quello che abbiamo fatto quello che dice che sostiene Gianluca Bocchi per esempio dice noi siamo già una storia di successo no noi siamo arriviamo da salti evolutivi parecchi quindi già siamo una storia di successo ora abbiamo l'opportunità di partecipare a un altro salto evolutivo anch'io credo molto in questo che stiamo perché il mondo così non così non possiamo andare avanti no il mondo è finito e nel senso che è delimitato finito le risorse sono limitate per cui questa terra non possiamo continuare a consumarla dobbiamo comunque stabilire un nuovo legame un nuovo una nuova relazione con la terra e questo si può fare solo attraverso un salto evolutivo non certo la tecnologia non basta non è quello cioè la tecnologia ci aiuta sicuramente ma non è quello il tema dobbiamo proprio cambiare mindset dobbiamo cambiare all'altezza della complessità che ci siamo costruiti intorno esatto esatto bellissima domanda successiva sembra un po di essere back buongiorno allora dialogo quali sono le principali resistenze e rischi che ha incontrato nella maturazione dei team e dei leader quali sono le principali resistenze difficoltà cicità distorsione possiamo dire in tante maniere ma diciamo che la risposta sintetica sono quanto ci piacciono i giochi di potere questa è proprio la risposta più sintetica sia per liber che per membri del team eccetera no quindi noi siamo proprio che poi sono dettati dalla paura principalmente in realtà non è che ci piacciono veramente alla fine almeno nella mia esperienza non mi sembra tanto quindi paura e quindi potere no paura potere paura potere paura potere questo porta una serie di tantissime distorsioni no quindi dal punto di vista del team porta a voglia di prevalere voglia di no prevalere sugli altri avere più riconoscimento degli altri avere più che ne so più più ragione degli altri o essere più speciali degli altri quelli che ne so io lavoro ho lavorato anche tanto poi ho lavorato anche nelle aziende ho lavorato tanto anche con team legati all'innovazione dove ci sono poi i geni no i geni sono meravigliosi a me sono tanto simpatici e spesso il genio ha questo tipo di atteggiamento un po adolescenziale ma anche simpatico del io faccio come mi pare no dove voi andate di là e io vado di là ma in cose molto anche inutili però insomma c'è questa posa no che anche un po è come una cifra artistica quindi può essere anche divertente a volte questo poi nel team in quelli che magari invece hanno un altro tipo di atteggiamento più 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 insomma proattivo più anche integrato con con il gruppo può dare fastidio quindi queste possono essere i giochi appunto giochi di potere giochi legati al l'affrontare l'autorità il rapporto con l'autorità insomma cose di questo tipo dal punto di vista dei leader il gioco di potere è assolutamente molto più deleterio rispetto al team perché nel team poi ci giochi e lo può integrare dal punto di vista del leader che già una posizione tra virgolette di potere a realtà poi la leadership per me è leader è semplicemente una persona che ha come funzione la facilitazione delle interazioni tra le persone e tra le persone la situazione questo è come un direttore d'orchestra deve creare un'armonia che funziona in quella con il suo stile non sono anche anche lì poi si parla di stile di modelli di leadership ma di fatto insomma poi ognuno deve usare lo stile che gli è più adatto la cosa importante è che sappia usarne più di uno insomma che riesca a muoversi che riesca essere fluido anche nel ruolo di leader e la resistenza insomma le distorsioni peggiori sono quando appunto il leader deve in qualche modo usare dei giochi di cioè giocare dei giochi di potere no lì allora diventa più difficile perché questi giochi di potere si possono incarnare in vari modi dalla per esempio ora se ne parla moltissimo dalla questione della presenza quindi tu devi essere presente fisicamente poi non ci sei perché sei presente nel tuo corpo ma quello non lo guardiamo guardiamo solo la presenza del corpo no che è anche lì molto cosa ci fai con un corpo disabitato non ci fai assolutamente niente oppure possono essere appunto dei dei questa voglia di comandare no quindi ti dico cosa devi fare e ti brontolo come se fossi un padre o come se fossi una madre poi ci sono anche lì donne e uomini hanno stili di leadership diversi diversi no quindi più patriarcale più matriarcale ma comunque sono distorsioni anche la madre che ti coccola troppo ma anche no non sono mica tre anni no quindi quindi ce ne sono tanti ma sono sempre comunque giochi di ego giochi di potere invece di guardare l'altro ascoltare l'altro capire cos'è che l'altro ha da dare come talento da mettere al servizio rispetto a quel progetto e valorizzare quella cosa lì non tanto cosa sei interessato te chiaramente c'è il leader si è portatore di una visione d'insieme di un'armonia ma poi secondo me un buon leader è capace di valorizzare il talento individuale proprio per aiutare le persone a metterle in servizio allora passiamo alla quinta domanda proviamo ad allargare adesso prenderci l'onere di allargare il discorso e ti chiedo questo quali sono le principali distorsioni e mancanze nella nostra cultura e modello di adulto che modificheresti alla luce della tua particolare esperienza aggiungendo anche cosa dovremmo avere il coraggio di dire e fare con più efficacia e decisione visse le sfide future quindi lo metterei questo in relazione all'accelerazione delle sfide ma forse dovremmo anche lì non c'è niente di sbagliato nel nel modello di adulto c'è qualcosa da capire sul tema del modello cioè quello il tema no qualsiasi modello in un certo senso è una distruzione perché poi è un modello è qualcosa fatto a priori quindi quando poi arrivi arriva la novità arriva la realtà il modello fa attrito con la realtà no quindi più che altro è quello diciamo che una cosa brutta della nostra società è che non c'è ci si considerano i bambini cioè visto che hai parlato dell'adulto si considerano i bambini come quelli che devono diventare adulti quelli che devono imparare a fare certe cose no in realtà molto spesso i bambini sono molto più saggi degli adulti no quindi forse l'adulto dovrebbe recuperare quella curiosità quella voglia di esplorare quella voglia di essere sempre nuovo che ha un bambino la presenza di un vino è anche vero che in qualche modo il passaggio dell'adulto dell'essere adulto è un passaggio da fare proprio per perdere questa spontaneità per poi recuperare un passaggio di consapevolezza quindi tornare bambini dopo aver fatto il passaggio adulto e quindi recuperare una consapevolezza diversa rispetto all'ingenuità se vuoi di quando siamo bambini rispetto alle grandi sfide noi siamo troppo ancorati secondo me siamo troppo veramente come se fossimo aggrappati incrostati alle nostre certezze dovremmo riuscire a sciogliere le certezze perché così le sfide che ci aspettano rischiano di romperci invece se io sono fluido riesco invece ad articolarmi con la realtà quindi le sfide che ci aspettano sono grandi sono una grande occasione come detto prima per svegliare la nostra vitalità per svegliare la nostra creatività e per sciogliere tutte queste certezze che in realtà non hanno ragione di essere nella vita quindi per ributtarci nella vita con più gioia ecco la mancanza di gioia è la cosa peggiore che non abbiamo cioè nella nostra società in qualche modo la gioia viene sempre repressa anche il tempo libero viene schematizzato perché così tu non puoi avere gioia no quindi recupero della gioia interessante guarda parlando dal punto di vista psicologico per riuscire a mettere in discussione la propria identità le proprie credenze fondanti quel punto a cui dici che siamo così eccessivamente attaccati perché ci vuole un minimo di confine di riferimenti spesso è difficile quando il soggetto in realtà ha un io fragile in parte ferito ma è completamente sviluppato no e allora quella sana messa in discussione ma che non è una distruzione del suo valore della sua amabilità della sua identità viene più o meno consciamente inconsciamente vissuto come apocalittico quindi si passa come a vivere quella sana fluidità viene vista come un rischio di distruzione no e quindi l'eccesso di paura probabilmente la mia ipotesi è che il modello di adulto oltre ovviamente a l'alfabetizzazione saper leggere e scrivere sapere stare nel mondo instruire un minimo di relazioni è un incremento di quelle capacità di metacognitive di osservazione di sé relazionali emotive che sono quelle che poi condizionano la gran parte del modo in cui interpretiamo noi stessi il mondo le scelte che facciamo quindi siamo al punto di vista logico linguistico di conoscenze astratte in terza persona super evoluti potentissimi velocissimi forse anche troppo rispetto all'altra parte che è fatta di capacità di stare con l'emozione capire chi si è cosa vuoi qual è come essere più resiliente nelle difficoltà e questo sta creando un cortocircuito perché nel mentre l'altra forma di intelligenza del problem solving astratta continua ad accelerare è uno strumento molto potente però hai detto molto bene cioè chi lo usa non è all'altezza dello strumento che utilizza proprio perché poi chi lo usa è fatto di emozioni è fatto di tutte quelle cose che tu hai elencato quindi quelle devono svilupparsi allo stesso livello altrimenti mi viene in mente una frase di un grande iogeno non mi ricordo chi chi era ma l'avevo letta da qualche parte che quando è stata sganciata la bomba atomica ha detto ecco i bambini hanno imparato ad usare i cerini quindi più o meno il senso è quello non stiamo sviluppando degli degli strumenti super evoluti ma non ci evolviamo allo stesso tempo dal punto di vista della coscienza della consapevolezza di cui le emozioni assolutamente fanno parte è certo la penultima domanda allarghiamo ulteriormente più diciamo esistenziale quanto e come contro la domanda di senso c'è quindi la capacità di creare senso nel relazionarsi con l'incertezza con le difficoltà di soddisfazione dolore il limite e perché no non fuggiamola la mortalità no assolutamente anzi la morte è una grande compagna di viaggio soprattutto nelle nelle viaggi estremi altrimenti non è estremo se non c'hai la morte come compagna di viaggio morte fisica o metafisica insomma in quel che metaforica sì la creazione di senso è un tema è il motivo che ci spinge a esplorare no non sei soddisfatto del senso che trovi e cerchi altrove cerchi di cercare cerchi di trovare altro cerchi di espandere questo senso dal punto di vista diciamo molto terreno la creazione di senso è quello che crea la motivazione cioè noi normalmente non ci muoviamo in un team per esempio se non crei un senso non riesci a creare quell'armonia di cui parlavo prima di devi essere anche un po un mago un storyteller ma in senso positivo non per me lo storico purtroppo anche quello viene viene in qualche modo distorto e si vede lo storytelling come tecniche di vendita o come manipolazioni varie no la creazione di senso è creare una storia che in qualche modo compatta il team che ci spinge tutti nella stessa direzione no che coinvolge che una storia alla quale voglio partecipare questo è un po il senso no quindi crea quel motivo per cui le persone poi partecipano questa è una cosa che tra l'altro tra i giovani è molto sentita io sento sempre più spesso giovani che entrano anche nel mondo del lavoro e hanno forte questa idea che quello che fanno deve avere un senso per loro no deve essere in qualche modo in allineato a quel loro sentire e anche questo poi può essere rischioso no poi quando si 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 crea un senso si può sempre cadere nella manipolazione nell'essere persuasi o manipolati insomma quello è un tema in qualche modo è una relazione da gestire con molta con molta cura però credo che ognuno di noi abbia gli strumenti appunto noi siamo una storia di successo siamo arriviamo dall'evoluzione arriviamo dentro di noi un sacco di risorse per cui possiamo fare no questa distinzione dal punto di vista più esistenziale la creazione di senso è la grande spinta evolutiva no è quello che spinge a evolversi è la motivazione per andare veramente oltre no trascendere la realtà più più ordinaria e cercare nuove dimensioni lì però è la meditazione che ti ha che ci accompagna secondo me non nell'ambito del fare c'è poco da fare insomma c'è più da da entrare in in dimensioni di silenzio perché poi si scopre che il silenzio ha in realtà molto da dirci io l'esperienza più terrena che posso che posso esprimere in questo senso è quando mi sono trovata in cima alla calotta polare quindi in questo deserto di ghiaccio e c'era soltanto bianco quindi c'è soltanto questa enorme distesa di ghiaccio ci sono per 360 gradi c'è solo ghiaccio anche l'aria è vuota perché in qualche modo non hai hai solo un deserto da dal punto dove sei per 1200 chilometri fino alla costa non c'è praticamente niente e l'aria è vuota perché non ci sono forme di vita no meno 50 non ci sono forme di vita quindi ha questo grande spazio bianco monocromatico il cielo se non ci sono nuvole completamente azzurro non ci sono odori perché tutto è congelato non ci sono rumori perché se non c'è il vento non senti i rumori quindi un silenzio totale un silenzio dei sensi e immerso nel silenzio dei sensi la cosa che la prima cosa che scopri è la quantità di energia che hai a disposizione cioè noi abbiamo una enorme quantità di energia che normalmente nelle nostre esperienze ordinarie viene in qualche modo catturata via da dai vari stimoli dai vari oggetti dalle varie cose che guardiamo in realtà c'è la possibilità di recuperarle quando la recuperi allora sei pronto per un altro viaggio insomma ed è diciamo essere calati in una dimensione del genere è uno shock che però ti apre altre altre possibilità insomma quindi ecco per tornare al tema principale sulla creazione del senso il voler cercare un senso è la nostra grande chiave di esplorazione il nostro grande motore ma è una bellissima immagine quella che hai dato secondo me la crisi nichilistica in cui viviamo come società occidentale anticipata ai tempi danice ma insomma che poi si è evoluta anteriormente non è tanto definibile come un prendere atto che non c'è un senso non c'è nulla ma secondo io la della definirei così è una crisi di messa in relazione col mistero non che abbiamo già risolto il mistero abbiamo scoperto che in realtà era un semplice enigma e abbiamo scoperto che non c'era nulla anche perché se pensi anche alla fisica quel vuoto non è detto che sia un nulla ma è la sorgente da cui tutto origina quindi la capacità di andare a ritroso dentro di sé come dici tu facendo silenzio smettendo di chiedersi a livello esistenziale soluzione o forme di senso ordinarie che vanno bene la vita pratica quotidiana quando ci si chiede qual è il senso del tutto non si può usare quelle logiche lì va a ritroso dello sguardo consapevole che che poi è spesso ci dimentichiamo che che noi noi stessi noi stessi siamo universo quindi in qualche modo siamo anche una forma di autoconsapevolezza dell'universo stesso quindi ma questo è il tema il fatto che ci dimentichiamo cioè questo è il tema il problema che l'unico problema che abbiamo che ci siamo dimenticati questo quindi tutto il gioco della vita in realtà nasce da questo l'ila come dicono nello yoga no cioè il gioco del divino tra sé e sé però questa è un'esperienza dobbiamo farla e singolarmente ognuno di noi deve farla questa esperienza hai detto benissimo tu no non si può arrivare con la stessa logica problem solver che è il problem solving che utilizziamo nel quotidiano per entrare in un'altra dimensione che non ha a che fare con il quotidiano cioè come usare un martello per per cucinare una torta non ha senso ma che fonda anche il quotidiano perché tutto include poi alla fine fine no no assolutamente 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 arriviamo all'ultima domanda che è sempre la stessa che è una logica un po' socratica ed è quella potremmo dire che domande vogliamo donare agli altri ed è così per trovare migliori risposte dobbiamo prima porci migliori domande ma per porci migliori domande prima dobbiamo fare i conti con i nostri pregiudizi che le fondano quindi quali domande suggeriresti doneresti a chiunque di porsi prima o poi nella vita ma per quanto mi riguarda il grande il grande aiuto che ho avuto era la volontà di sfidare le mie contraddizioni cioè il fatto di riconoscere dentro di me delle contraddizioni e di sfidarle e di cercare di risolverle no e questo mi ha dato una grande una grande spinta per esplorare i pregiudizi perché il tema hai detto benissimo il tema il problema principale sono i nostri pregiudizi allora vanno esplorati in modo tale da poterli poi dissolvere perché è inutile sostituire un pregiudizio con un altro no quelle fa parte delle soluzioni new age soluzioni semplici ma che non portano da nessuna parte che sono esattamente l'estremo opposto dell'estrema razionalità in realtà sono la stessa identica cosa un po' come la teologia cioè come non la teologia ma l'essere credenti o l'essere non credenti esattamente la stessa cosa cioè in realtà devi fare un'esperienza altrimenti le entrambe le cose lasciano il tempo che trovano se tu hai l'esperienza della fede è un'altra cosa ma il credere o il non credere esattamente una polarità che non ha senso di essere quindi sì le domande da regalare non ce le ho nel senso per me le domande le grandi domande sono state che senso ha la vita che senso ho io qui questo mondo non ha senso per me per me la principale domanda è stata da piccola io mi ricordo già da piccola era proprio questo mondo non ha senso cioè ero proprio aiuto dove mi avete lasciato mi siete scordati mi sono caduta riportatemi indietro cioè ero proprio abbastanza sconvolta perché non lo capivo ma non perché non avevo un astio nei confronti del mondo semplicemente non avevo cioè per me sono tutti pazzi no sono pazza io mi sentivo proprio fuori da fuori dal mondo cioè fuori non capivo questa dimensione e questo mi ha aiutato molto è stato anche molto doloroso all'inizio perché chiaramente se tutto il mondo va in una direzione tu non capisci la prima cosa che fai dici il problema sono io no e questo è stato salvifico in qualche modo è stato molto sano no dire il problema sono io perché mi ha permesso di esplorare laddove non mi tornavano le cose esplorarle no però passarci attraverso proprio quindi e poi non aver paura secondo me non aver paura proprio del dolore cioè non aver paura il dolore è energia no è un aspetto per carità lo dico con molto rispetto no ci sono poi dolori e dolori però veramente qualsiasi dolore io l'ho imparato poi nella vita che può essere trasformato nel senso che non è che lo risolvi ma lo puoi attraversare e quando lo troversi apre sempre qualcosa sempre 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 qualcosa a prescindere da come vada a finire perché non è quello non è come va a finire il tema è quali tante dimensioni si possono aprire alla mia esplorazione e questo è proprio magico secondo me è una cosa magica quindi sì questa questa come 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 posso ne parlo perché per me è stata una scoperta magica e quindi è assolutamente perché il dolore no che ci la paura del dolore che ci frena bellissima questa tua che è emersa in diverse tue risposte nelle varie domande con questa tua attitudine di questo slancio che è più l'attrazione verso la scoperta l'interrogazione per quanto incerta dolorosa che può creare paure varie riesce a bilanciare a volte superare invece bisogno di chiudersi preferire la certezza magari sbagliata rispetto all'incertezza ma che cerca la verità e questo è veramente molto prezioso da augurare a quantomeno a tutte le nuove generazioni di coltivare questa attitudine poi c'è chi ce l'ha innata c'è chi la può scoprire magari secondo me sì ce l'abbiamo tutti assolutamente abbiamo tutti dobbiamo solo risvegliarla in qualche modo perché è una cosa è proprio una cosa di bambino per cui per forza ce l'abbiamo capito tutti siamo passati poi ce la siamo scordata ma ti racconto una metà un piccolo aneddoto veramente velocissimo mi è capitato di svenire ed ero in metropolitana ero a Londra in metropolitana e mi è capitato di svenire ho avuto un certo punto un forte dolore a rene fortissimo nella zona del rene e ancora non sapevo nemmeno che lì ci fossero i reni per dire già tanto tempo fa e sono svenuta no e mi sono resa conto mentre stavo svenendo la mia mentalità logico da capospedizione ho detto ok chiara sta succedendo qualcosa io non ero mai svenuta no però avevo capito che stavo per svenire non so come e ero in piedi e vicino alle porte ho detto se mi si aprono le porte io svengo mi succede un incidente quindi mi sono spiaccicata proprio al vetro di separazione che separa con quelli seduti da quelli in piedi vicino alle porte non c'era un vetro e poi sono svenuta e l'unica cosa che ricordo è che ho incrociato lo sguardo di una persona che era lì che probabilmente mi ha visto impallidire perché è stato molto improvvisa questa cosa la seconda cosa che ricordo quando mi sono ripresa in qualche modo quando sono tornata cosciente questa persona che mi tira su e mi fa sedere su una su una sedia ecco in quel momento lì io mi sono resa conto che la mia io non avevo la capacità di fare assolutamente niente solo aprire gli occhi cioè io avevo l'energia per aprire gli occhi tutto il resto del corpo era come se non ci fosse per me la cosa buffa che non è che ho cominciato a pensare cosa mi sta succedendo sto per morire c'è ora una malattia grave no la cosa più bella cioè secondo me era una cosa bellissima cioè io mi sono cominciata a dire no ma bellissimo ma io io non posso però guarda muovi la gamba muovi la gamba la gamba non si alza no bellissimo perché sentivo che io c'ero ma non avevo il contatto con il corpo no però io c'ero c'era quello il tema mi sono focalizzata sul fatto ma come io ci sono e però non ho contatto con il corpo ora questa esperienza può anche spaventare a me è proprio venuto naturale di esplorarla no e questo è un po emblematico di qualsiasi esperienza la possiamo vedere così con qualcosa di nuovo ripeto noi ci siamo siamo lì siamo presenti quando qualcosa di brutto sta accadendo noi siamo presenti noi ci possiamo focalizzare sul fatto che noi esistiamo siamo lì presenti e quindi facciamo delle cose oppure che ci può succedere può essere questo quest'altro le cause eccetera e a quel punto disperdiamo via l'energia no va via e non non viviamo appieno l'esperienza questa è assolutamente la sintesi anche di quella che io chiamo l'antarctic mindset no questa esperienza di antartide poi mi ha detto che questa esperienza fatta nelle spedizioni estreme mi può può essere utile anche gli altri ho deciso di condividerla no proprio per essere efficaci nell'incertezza e il succo di questo deve essere efficace nell'incertezza è proprio la presenza no essere lì in quel momento in cui sta succedendo questa cosa senza farsi distrarre dagli scenari dagli strumenti da quello che non doveva succedere da come mai è successo da che dolore che provo insomma cioè essere lì provo dolore dove lo provo come lo provo cioè cosa cosa sto vivendo dove sono io in quel momento questo ci porta poi ad essere creativi no e quindi poi a molto spesso uscire dalle situazioni critiche bellissimo bellissimo va bene grazie tante per la tua disponibilità per aver condiviso queste tue esperienze anche personali io sono sicuro che saranno molto interessanti per chiunque guarderà il video ma grazie a te le domande erano veramente molto bello e grazie anche per per lo scambio no perché hai detto delle cose veramente molto belle grazie è stato molto bello alla prossima ciao grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti